Pronto, signor Marco? Sì? Fantastico, grazie! L'hanno approvato? Abbiamo il finanziamento, possiamo cominciare! Buongiorno! Ciao! Ho visto il cartello, sono qui per il posto! Ok, Chiara, cominci lunedì! Scusi, altre 38 di queste? Certo, mi prendi subito! Complimenti, abbiamo 28! Ce l'ho fatta, ragazzi! Bravo, Chiara! Spritz per tutti, off e Luca! Grazie! E' bello essere una banca al servizio della vita reale!